A quest'anno abbiamo deciso di implementare la serie di incontri che solitamente facciamo in Auditorium con questa nuova iniziativa che ha la sua sede qui al Macro Asilo. Si sdoppia in due sezioni, diciamo, che sono una quella dei duel e l'altra fedeltà tradimenti. La prima porta persone di cinema, scrittori, giornalisti a scontrarsi amichevolmente intorno a un tema, a un regista o a due film dello stesso regista, per cercare di dimostrare quale è il vincitore, quale è il tema, il film, il regista dominante. L'altra invece si chiama fedeltà tradimenti, mira invece a dimostrare se determinati adattamenti di romanzi celebri o anche meno celebri sono riusciti. Per fare questo ci siamo rivolti a degli scrittori molto importanti del panorama italiano, ben quattro premi strega. Devo dire che abbiamo ricevuto una decisione che è stata tripla quasi rispetto a quella che ci avevamo immaginati, quindi ci auguriamo che questa iniziativa possa essere ben recepita dal pubblico del Macro Asilo e naturalmente quello della Festa del Cinema perché già abbiamo avuto delle idee per l'anno prossimo. Grazie.